30 cantieri aperti in un anno, 40 milioni di investimento sulla Messina Palermo, 4 gallerie ripristinate sulla Messina Catania. Sono i numeri che il Presidente della Regione Nello Musumeci ha dato durante la presentazione del nuovo management del Consorzio Autostrade Siciliane. 600 milioni di contenzioso ridotto, ha aggiunto Musumeci, che ha dato un anno di tempo al CAS per tornare quello che doveva essere sempre. L'esempio lampante il Governatore l'ha fatto con la frana di Letoianni. Entro ottobre dovrebbero partire i lavori. Non c'è da crederci, c'è soltanto da avere la pazienza di prendere appunti e prendere atto che questa faticosa inversione di tendenza è già cominciata. La frana di Letoianni, la vergogna del CAS, per tre anni era un argomento da giornale, da titoli, di cronaca, adesso fra agosto e settembre saranno aggiudicati i lavori per la frana di Letoianni col nuovo CAS. Quindi, come vedete, lentamente qualcosa comincia a cambiare. Io credo che nello spazio di un anno noi avremo assicurato i minimi livelli di sicurezza, perdonate il bisticcio di parole, per gli automobilisti, sia sulla Messina Catania che sulla Messina Palermo. Ma anche altri tratti dell'A18 hanno bisogno di manutenzione, ecco perché del grande piano da 75 milioni per rendere finalmente decente l'autostrada Messina Catania, 25 serviranno per il rifacimento dell'asfalto nel tratto Tre Mestieri-Giarre. Ma Musumeci ha affrontato anche il delicato e spinoso tema della fusione tra consorzi, autostrade siciliane e ANAS, su cui è aperto il confronto politico. Non si può fare la fusione con l'ANAS se poi non porta l'ANAS un valore aggiunto. A noi questa ANAS, così com'è, non piace. Lo abbiamo detto al Ministro Toninelli, lo abbiamo detto al Governo centrale. Troppo lenta, un pachiderma, troppo contenzioso. I cantieri qui durano tre volte rispetto al nord Italia, in termini temporali. Vogliamo un'ANAS più agile, più snella, ecco noi ci mettiamo questo giovane gagliardo che è il CAS e facciamo il matrimonio.